Per il ciclo Tour de France Cosa posso fare per lei? Possiede un impero E estinguerò i suoi debiti In cambio entrerò a far parte della sua famiglia Può permettersi tutto È il mio fidanzato? Da quando? Ma ciò che gli manca davvero Non lo può comprare Lei è davvero strano Non fate che litigare, litigare! Vuole provare a stare in famiglia? Beh, questo ne fa parte Una famiglia in affitto Lo farebbe vedere in che modo fino Lunedì alle 21 Con Iris Grazie a tutti